Serena, sei bravissima! Vuoi che ne faccia una anche per te, Clem? Certo! Che meraviglia! E questa è per te! Sei adorabile! Tutto bene, vero? Guardate, è un Eevee! Eevee! Pokémon evoluzione! È un Pokémon piuttosto raro, che si adatta agli ambienti più difficili evolvendosi, cambiando capacità e forma! Quanto è carino, Serena! Si vede che a Eevee piace un sacco danzare e si muove così aggraziatamente! Serena, il sale è pronto, venite! Eevee, aspetta! Mi spiace, se n'è andato!